Regione Toscana, il consiglio regionale. Il consiglio regionale della Toscana torna a parlare di Covid e l'occasione è la conclusione della commissione d'inchiesta sui vaccini, con in aula le relazioni di maggioranza e minoranza. Il presidente della commissione d'inchiesta, Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, ha indicato come il lavoro è stato lungo e approfondito, senza che sia stato di tipo inquisitorio da parte della minoranza, ma predisponendo un lavoro costruttivo. Secondo il Partito Democratico, per voce della vicepresidente della commissione Federica Fratoni, la Toscana ne esce come un modello in Italia nella campagna vaccinale. Sia maggioranza che opposizioni si sono soffermate nel ringraziare tutti gli operatori sanitari, i medici, i volontari e i paramedici, ma ascoltiamo negli interventi dei consiglieri dei vari gruppi politici le loro posizioni a conclusione dell'inchiesta. Alla fine di questo lungo lavoro abbiamo evidenziato il fatto che la regione toscana si è trovata a gestire, come le altre regioni, una situazione straordinaria e inedita di caratura globale, per cui con un panorama assolutamente nuovo e strumenti inizialmente molto carenti, mancavano le mascherine, mancavano i respiratori. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi, nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello, che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid e oggi, ancora oggi, vediamo che per i dati della vaccinazione la regione toscana risulta essere nelle prime posizioni a livello nazionale. La Toscana è stata la prima, anche su nostra richiesta, a fare una commissione di inchiesta a livello toscano per verificare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato sotto la pandemia, in maniera molto acritica ma ovviamente in maniera oggettiva per vedere e di comprendere come è stata la risposta della regione toscana a quell'esperienza. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al governo di istituire anche a livello nazionale una commissione di inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni, anche a livello nazionale, con il nostro leader Matteo Renzi e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale, appunto, partendo dalla Toscana si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione di inchiesta perché nel mentre le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate nel mentre il volontariato e i medici davano tutto a se stesso per aiutare gli altri, c'era chi faceva affari magari sulla disgrazia degli altri. E questo va messo alla luce, va fatto una commissione di inchiesta con poteri parlamentari, quindi dalla Toscana, dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva così come avviene a livello toscano, parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente di inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte. Oggi è stata presentata la relazione da parte dell'opposizione e poi anche quella della maggioranza purtroppo due relazioni divise rispetto alla commissione sulla pandemia e quindi sulla gestione dei vaccini che è stata chiesta da parte delle opposizioni di cui ho anche fatto parte abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della regione toscana che da parte nostra non ha avuto coraggio soprattutto nella prima fase quando a livello governativo gestiva Arcuri. Secondo noi l'arrivo di Figliolo ha poi cambiato le linee, si è andati a vaccinare gli ultraottantenni ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver e su questo la regione toscana non ha fatto niente. E poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni, insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Io purtroppo ho dovuto anche abbandonare l'aula durante il mio discorso davanti all'ilarità da parte dei colleghi della maggioranza che non è tollerabile davanti alle morti e al rispetto che si deve di fronte a questa situazione. Ma io devo dire che il dibattito, la relazione, guardando in controluce come è legittimo che faccia una minoranza che cerca comunque di trovare sempre il pelo nell'uovo ma stamani è stata la dimostrazione nel dibattito e nella evidenziazione dei temi di quanto la Toscana sia stata complessivamente brava a gestire un momento così delicato e difficile quale la pandemia. Da un'organizzazione che non esisteva perché l'ultima pandemia era stata più di cent'anni fa, la spagnola dal 1918 al 1920, abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini, a portare una copertura al 96-97%, il motivo per cui oggi il Covid in Toscana quasi non esiste più, stamattina non c'erano nemmeno 200 contagi. La Commissione Vaccini ha portato all'attenzione del Consiglio, ma anche di tutti i toscani, un testo condiviso su 200 pagine per 198 pagine tra maggioranza e opposizione. È il frutto di un lavoro condiviso, fatto sotto il segno di un alto profilo istituzionale e sostanzialmente vocato alla volontà di ricostruire tutti i passaggi della gestione pandemica della campagna vaccinale per sostanzialmente dare una valutazione sulla risposta del sistema sanitario regionale e nei limiti delle possibilità poter offrire anche degli spunti. Questa relazione poi condivisa ha preso delle vie diverse, c'è stata una via che è quella della maggioranza e una via di tutti i gruppi di opposizione su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati insomma si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi talune situazioni dettate da una impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costate chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in regione toscana. Nonostante questo il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale di tutto il terzo settore di questa regione toscana che è un patrimonio, una ricchezza inestimabile che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente. La Commissione ha fatto un lavoro poderoso ha ascoltato tutti gli operatori del settore e ha impiegato molto tempo per stilare una relazione che vorrebbe essere non soltanto una memoria storica per futuri ricercatori ma uno strumento attuale per capire che cosa è stato fatto sia nel bene che nel male e quello che è venuto fuori sicuramente sono stati fatti degli errori dovuti anche alla situazione eccezionale della pandemia ma anche a delle mancanze soprattutto di programmazione e di pianificazione che erano evidenti erano evidenti per noi dell'opposizione non sono mai state condivise dalla maggioranza non ricordo il numero delle interrogazioni che ho fatto anche direttamente in aula all'assessore oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione di inchiesta i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato ma non era mai stato attuato neanche in minima parte questo che cosa ha voluto dire ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini vista l'eccezionalità della situazione l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo Proseguono in questo inverno le iniziative del Consiglio regionale sul tema della giornata della memoria in Consiglio regionale incontro con Vera Vigevani Iarac attivista e scrittrice vittima delle leggi razziali fasciste e madre di Plaza De Maio che con la sua testimonianza ha incontrato a Firenze il Parlamento degli studenti della Toscana nella storia di Vera Vigevani si intrecciano gli orrori di due feroci dittature nel Novecento nata a Milano nel 1928 per scampare alle leggi razziali del regime fascista all'età di dieci anni e migra con la sua famiglia in Argentina il nonno Ettore Camerino rimasto in Italia viene deportato ad Auschwitz nel 1943 dove viene ucciso tre decenni dopo in Argentina la figlia Franca Iarac verrà sequestrata dai militanti del dittatore Videla e il suo nome si aggiungerà alla lunga lista dei diseparicidos da allora Vera Vigevani appartiene al movimento delle madri di Plaza De Maio e diventa come si definisce lei stessa una militante della memoria oggi siamo onorati di avere qua in presenza Vera Vigevani una sopravvissuta alla Shoah che scappò dall'Italia nel periodo delle leggi razziali e noi del Parlamento degli studenti non possiamo che ringraziarla appunto dandole il nostro ascolto e promettendole che rimanderemo a qualsiasi altra generazione che ci succederà la sua testimonianza è importante che ci incontriamo e scambiamo un po' di opinioni vediamo se assieme cerchiamo non solo di ripassare il passato che tra l'altro è facile trovare tanta informazione basta mettere un dito sia su internet ma vedere un po' che sta succedendo e soprattutto affrontare tanti problemi tanti drammi tante cose terribili che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo allora per loro e per me è una maniera di starci vicini di metterci insieme rinforzarci non guiderci perché quella è la cosa peggiore e vediamo se qualcosa riusciamo a fare vediamo se miglioriamo un pochino il mondo con più giustizia e chi lo sa dicono che tutto sono utopie sogni è vero sono anche utopie probabilmente ma le utopie qualche volta si possono realizzare una giornata importante perché oggi ospitiamo una donna Vera Vigevani che è riuscita a trasformare il dolore e la violenza subita in insegnamento ed educazione soprattutto alle ragazze e ai ragazzi più giovani la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte una terra che è sempre stata in grado di accogliere in grado di trasmettere ai giovani quei valori che indicano qual è la strada da seguire e in un tempo in cui purtroppo i testimoni di quegli orrori di quelle barbarie di quelle violenze sono sempre meno allora è importante che ognuno di noi diventi amplificatore di memoria e per questo oggi insieme al Parlamento degli studenti vivremo una delle più belle giornate che in questi anni quest'Aula ha potuto ospitare regione toscana il consiglio regionale dell'iscrizione che inizia a